Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Fare attenzione per le condizioni meteo avverse su quasi tutto il territorio toscano, con pioggia e vento forte, in particolare sulla FIPILI tra Gello e Pisacentro. In A1 fare attenzione per una perdita di carico accidentale avvenuta tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. In A11 è chiuso lo svincolo di Monte Catini Terme fino alle 20 per mezzi pesanti con peso superiore alle 3,5 tonnellate. Sulla statale 1 Aurelia chiusa una corsia per lavori tra Maiano in Toscana e Fonte Blanda in direzione Genova. Sulla statale 3 bis Tiberina riduzione di carreggiata per fondo stradale dissestato tra Canili e Valsavignone in direzione dell'incrocio Viterbo-Terni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!